Per il momento le piazze di Firenze resteranno aperte nel fine settimana. In caso di assembramenti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è pronto tuttavia a chiuderle. Intanto aumenteranno i controlli ovunque, ma soprattutto nelle piazze del centro storico, per evitare il più possibile problemi. Queste le decisioni dopo il Comitato per la Sicurezza Pubblica, che si è riunito proprio a Firenze con il prefetto Laura Lega. Il sindaco, nelle ultime ore, ha anche dato una buona notizia, anticipando i dati relativi al contagio delle ultime 24 ore, che scenderebbero sotto la soglia dei 2000. Un dato che fa sì ben sperare, ma che al contempo non deve fare abbassare la guardia. La regione, che ha appena avarcato la soglia arancione, rischia infatti di scivolare nella più pericolosa fascia rossa. Da qui l'invito del primo cittadino al massimo rispetto delle regole e l'annuncio di maggiori controlli e, se necessario, anche di una limitazione all'ingresso delle piazze del centro. Sarà inoltre potenziata l'iniziativa dissuasiva dell'aggregazione anche attraverso il passaggio di veicoli della Polizia Municipale, muniti di altoparlanti. Se non riusciamo a rallentare la corsa del virus nella nostra Toscana, noi, nell'arco di pochi giorni, rischiamo di andare in fascia rossa. E nella fascia rossa le restrizioni aumentano in modo pesante, in modo massiccio. Dipende quindi veramente da tutti noi.